so che un rapporto conflittuale con la marvel no 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 in realtà no sono cresciuto con la marvel non vado a vedere ormai il marvel cinematic universe non c'avevo più basta però ripartito ottimi cioè ripartito felice ero partito come io sono amante della nuova hollywood quindi cinema americano i garbaliani 70 quindi roba del padrino taxi driver cacciatore della roba il cancelli del cielo si sia apocalypse now c'è proprio le robe quelle sporche malzane quindi io valuto i film per come sui film quindi se è un buon film sono contento se un brutto film brutto film cioè andare a seguire un film perché così capisco meglio la macro trama no ok no che però è stata la sua forza lo stesso sì certo certo però è la forza la stessa forza che c'è nelle serie tv adesso mi sono garbati tantissimi film marvel io però la cosa che ho adorato di più essendo cresciuto con i fumetti della marvel è stato proprio quello di vedere dei film che si intrecciavano